Velocità, intuito talento, uno dei punti di forza della Perugia che supera la crisi e vuole il semifinale di Superliga. Il centrale argentino Sebastian Solet vuole andare fino in fondo nella corsa al tricolore. È una cosa che la volevamo, insomma abbiamo trovato Milano che è una squadra che ci ha messo in difficoltà ma è qui dove noi siamo stati bravi a dimostrare che siamo una bella squadra, che volevamo questa semifinale perché penso che è una squadra, una società che si merita di andare in semifinale del campionato italiano. Monza l'avversaria, una squadra di quelle toste però si gioca al meglio delle cinque partite. È anche lunga, bisogna andare partita per partita, credo che loro sono giocatori, anche alcuni esperti che la sanno giocare e quindi dobbiamo avere la tranquillità che questo che abbiamo fatto finora è una cosa molto bella e andare con il cottello tra i denti a vincere le partite. C'è un certo Santi Orduna, un tuo con nazionale in regia. Sì, sì, c'è Santi che ormai tanti anni che giochiamo sempre incontro quindi questa sarà una bella sfida io la voglio vincere contro di lui quindi sarà difficile ma sono consapevole che andiamo a fare belle cose.